Acquistata a metà campo, altra gara, sempre la Virtus Castelfrentano con la classica tenuta nero-azzurra, mentre l'Ortona calcio con la classica tenuta verde-gialla. I ragazzi dell'Ortona si trovano in bandaggio, hanno realizzato due splendide rete con due belle azioni. In fondo si vede il mister Simone Giordano. Per poco ci usciva un'altra rete, il ragazzino in scivolata ha tentato di fare la protessa della giornata. Il risultato è relativo, basta che si divertono i ragazzi, quindi il risultato può servire da stimolo per proseguire, però basta che si divertono, socializzano fra di loro. I ragazzi già ieri si sono visti all'Aquila in occasione del ventisesimo raduno regionale dell'Espore Calcio dove, come sempre, anche la Virtus Castelfrentano era presente con la propria rappresentanza di baby atleti. c'era anche l'Ortona calcio. sta riprendendo anche la gara dopo una pausa di riposo, in questo altro lato sempre i ragazzi della Virtus Castelfrentano e Ortona. In questo lato, come ho potuto vedere, hanno fatto più gol i nostri baby della Virtus. sorgere, tornavi dietro, sorgere. Ecco parte il ragazzino, viene subito anticipato. Buona, 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 gioca. E tu, Bosto, giallo. Fuori rimessa laterale, rimessa dal fondo, rimessa dal fondo. sulle tribune si vedono sicuramente i genitori dei ragazzi. Qua in fondo vediamo anche Federico. Buona, 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 buona. parola, buona, buona, buona.